la sfortuna è che abbiamo solo l'11% di batteria quindi non riesco a documentare appieno questa passeggiata come potete vedere il sole splende là in fondo qua no siamo in mezzo al fango e adesso per facilitarci la vita andiamo in mezzo ai campi abbiamo avuto la brillante idea di fare una passeggiatina con il sole questa mattina e di andare fino a zocca dopo di che a zocca ha iniziato a piovere noi furbamente siamo fermati a mangiare e appena c'è stato uno spiraglio di luce via di nuovo verso casa per un'ora e mezza di passeggiata peccato che dopo cinque minuti di passeggiata ha iniziato a diluviare giusto abbiamo trovato le more in un campo mentre venivamo su mamma mia però a parte l'acqua che spettacolo ragazzi ecco grandina ci mancava di qua io non mi so così tocco 12 ci Sì